buongiorno da obiettivo news oggi 31 marzo san beniamino e si celebra la giornata mondiale del backup world backup day con l'obiettivo di sensibilizzare le persone alla sicurezza e la cura dei propri dati il backup infatti una procedura con la quale si realizza una copia di sicurezza di un certo insieme di dati a causa del progressivo processo di convergenza tra cycle security e cyber security la sicurezza dei dati ha conseguito sempre maggiore rivelanza la diffusione di dispositivi connessi alla rete ha portato ad un rischio di cyberattacco sempre più elevato per evitare di incorrere in questi pericoli importante adottare una serie di buone pratiche per la sicurezza in rete tra le quali proprio un sistema di backup periodico in grado di tutelare i dati anche in caso di problemi tecnici o di attacco hacker e